Vedi Stella, non c'è un cazzo a fare, è l'evoluzione della specie, vedi? Si nasce Chiellini, si passa da Gattuso e si diventa Zanetti, hai capito? E' così che va, Stella, l'evoluzione della specie. Allora, il prossimo esposto quale sarà? I tacchetti dell'Inter? Con quale scarpine giochiamo? Quali scarpine regolamentari? I tacchetti? Le scarpe? Cosa fate poi? Fatemi sapere, Stella. Scrivetemelo nei commenti, gobbo di merda. Scrivetelo nei commenti. Il prossimo esposto qual è? Le scarpe che non vanno bene? Ah, il campo un po' più piccolo quando gioca l'Inter. Che cos'è? Che cos'è? Oktri vuole tenere l'Inter in hype, hai capito? Per poterla poi vendere in hype. Ci sono fondi e fondi. Voi avete beccato il fondo del mangia-mangia, scappato di casa. Si sono fatti il favore, ma adesso gli devi dare i soldi l'anno prossimo. Tic tac, tic tac, tic tac. E dopo si scanneranno sicuramente. E tu? Serie B. E' così che... Ok? E' così che dipendrata. Grazie a tutti.